Sventato attacco hacker alla sede degli artigiani di Treviso, recapitate dai gnoti false mail di Equitalia, con cui ad alcuni dipendenti si chiedevano coordinate IBAN per regolarizzare la posizione di Bitoria. Il fatto appena una ventina di giorni fa. Una quindicina in provincia di Treviso e gli artigiani che hanno subito il furto di identità digitale, con i ladri che una volta entrati nel computer si sono impossessati dei dati di tutta la rubrica fornitori. Il caso di un imprenditore 42enne di Carbonera che con l'inganno ha pagato 15.000 euro per una falsa fattura, come racconta il legale degli artigiani trevigiani. Purtroppo il nostro imprenditore artigiano non ha verificato poi l'esatta corrispondenza dell'IBAN e si è trovato a pagare un soggetto terzo, oltretutto poi con la beffa di dover ripagare il fornitore. Difficile per lui ora riuscire a recuperare tale somma, specie se la frode arriva da un paese straniero. La nostra autorità giudiziaria per poter rintracciare e andare a perseguire questi soggetti dovrebbe chiedere delle erogatorie internazionali che chiaramente per piccoli reati non vengono assolutamente richiesti. La cautela è il senso critico tra gli strumenti di prevenzione contro questi crimini digitali che è possibile fronteggiare anche grazie a Sportella Impresa, consulenza gratuita per tutti gli imprenditori. È a tutela delle imprese associate ma anche di imprese non associate che hanno comunque piacere di rivolgersi a questo servizio che noi appunto forniamo.